È posizionata a circa 1.400 chilometri, 1.200 chilometri all'inizio del viaggio. Viaggio che peraltro ha subito una deviazione perché noi dovevamo attraversare lo Spiti ma caddero due metri di neve e quindi chiusero la strada. Intanto noi stiamo vedendo anche delle immagini, il nostro registra ci sta facendo vedere anche dei momenti di quel viaggio, questi sono i momenti relativamente più tranquilli. L'arrivo è l'uscita da Delhi, quindi ci dice veramente poco di quello che avremmo trovato dopo. La cosa bella di questo viaggio è il raggiungimento di questo villaggio in paesaggi meravigliosi, sempre sopra i 4.000 metri, con una serie di disavventure che in realtà ci facevano sembrare il villaggio ogni giorno, più lontano, pur avvicinandoci. Bisogna tener conto che la media più alta che abbiamo fatto, media di marcia, quindi senza tenere conto delle soste, è stata 37 all'ora. Dal punto di vista fisico, come è affrontare quell'altitudine? In realtà peggio di quell'altitudine perché noi abbiamo svalicato più di una volta i 5.000, abbiamo fatto il secondo passo carrabile più alto dell'India che è 5.360. Dal punto di vista fisico noi siamo stati benissimo perché la carenza di ossigeno non è stato un problema. Bisogna tener conto che io viaggiavo con un amico, Maurizio Matteucci, e tutti e due siamo abituati alla carenza di ossigeno per motivi diversi. Lui fa i campionati italiani in apnea, io continuo a nuotare, quindi sono abbastanza abituato alla carenza di ossigeno. Per cui noi siamo stati benissimo. C'è chi non sta altrettanto bene e in ogni caso conviene sempre consultare il medico prima di partire o amici alpinisti che abbiano medici che conoscono il tema per fronteggiare anche dal punto di vista della medicina quello che si può fare, perché qualcosa si può fare. E dal punto di vista tecnico come si sono comportate le vostre GS? In due modi diversi, perché io avevo una moto nuova e quindi non si è accorta assolutamente i cambi di quota. L'altra moto era una moto più vecchia a carburatori e quindi ha avuto qualche difficoltà nelle parti più alte del percorso. Difficoltà per le perdite di potenza. Teniamo conto che si perdono circa 10 cavalli ogni millimetri, quindi quando si arriva ai 5.000 metri la perdita di potenza è notevole. Però d'altra parte con 5 cavalli si sale quasi dappertutto, per cui la potenza bastava avanzare. Continuiamo intanto a vedere le altre immagini. Dunque qual è stato il momento più entusiasmante, e il momento invece di grande affaticamento nel quale magari avete pensato non ce la facciamo? Quando siamo arrivati a Zocar, che è stata una meta stranissima, perché quel giorno noi avremmo dovuto fare una tappa di circa 8 ore per dormire a un campo tendato a Sarciu. La guida al mattino ci disse che il campo tendato, mi viene a sorridere dicendo, non era ancora stato costruito. Per cui la tappa, ma questa è stata l'ennesima novità che ci dì della guida. E qui quindi dovevamo arrivare a Zocar. 15 ore, sopra i 5.000 metri in buona parte, il campo è alla fine di una parte esertica che è in quota e a 4.200, arrivamo di notte e la guida non trovava il campo, ma non lo trovava perché abbiamo scoperto che non c'era. Quindi a quel punto, completamente bagnati perché avevamo fatto un'infinità di guardi, col vento teso e meno 3 di temperatura, siamo stati costretti a cercare qualcosa. Per fortuna abbiamo trovato un campo con una decina di militari che ci ha ospitati in una baracca su delle tavole di legno, ma per noi è stato meglio dell'Hilton o dello Sheraton, ognuno si scelga l'albergo che preferisce. Anche perché se stiamo vedendo appunto le immagini con questi panorami non può che essere un paradiso, insomma. È un paradiso. Tutto sommato sembrare un paradiso. È il momento più affascinante. Il momento più affascinante direi che è quello che abbiamo appena descritto, perché veramente questo viaggio è un viaggio sospeso fra terra e cielo, per questo anche Halfway to Heaven, perché veramente si ha la percezione di stare quasi sospesi fra la terra e il paradiso. Si abbandonano delle zone molto urbanizzate in cui si incontrano tanti veicoli e si arrivano a un punto in cui per ore non si incontra nessuno. E quindi veramente si ha questa sensazione di essere distaccati da questa terra. Poi c'è il rientro, si paga magari in zone come il Kashmir e rientro a Delhi. Però ci sono delle buone tratte di percorso in cui si ha questa sensazione fortissima e meravigliosa. Ecco, anche questa sensazione di non incontrare nessuno, quindi passami il termine, anche questo senso di solitudine. Che cosa significa? Cosa si pensa in quei momenti? A tutto. A tutto quello che... È veramente libertà di pensiero, perché a tutto quello che magari a volte non hai il tempo, non riesci a dedicare il tempo a pensare, ecco in quei momenti riesci a pensare a tantissime cose, a riflettere. Poi magari ti distrai e guardi questi panorami che sono mostrafiato. Vedi cose che da noi non si vedono più. Abbiamo incontrato gli avvoltoi. In India ci sono due avvoltoi. C'è il dorso bianco e un altro tipo di avvoltoio. Li abbiamo incontrati in quota, facendo anche delle belle foto, devo dire. È stato un po' duro a girarli per riuscire a fotografare vicino, ma fai degli incontri in cui in realtà ti senti vicino a quello che è la natura vera, incontaminata. E la moto, che se ne dica, non è un mezzo, se adoperato in modo corretto, che disturba, perché è poco inquinante, è una presenza che scompare rapidamente e se si accetta di questa filosofia di non disturbare la zona che si attraversa, lo si riesce a fare veramente bene. Subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria vorrei chiederti se avete sollevato la curiosità anche delle popolazioni che avete incontrato. Quindi se c'è stato anche qualche elemento di scambio umano importante. Però ecco, tu intanto rifletti, una brevissima pausa per noi, ma rimanete sintonizzati su Nuvolari perché abbiamo tante curiosità da svelarvi.